Che cosa è un tumore maligno della guaina del nervo periferico? Un tumore maligno della guaina del nervo periferico è una crescita cancerosa che compare nel rivestimento del tessuto molle di un nervo. Più comunemente si sviluppa intorno a un lungo nervo in una delle estremità, anche se un tumore può colpire anche un nervo nel torace, nell'addome, nel bacino o nel collo. Una persona può provare dolore e debolezza nell'area della crescita che gradualmente peggiora nel tempo. Un piccolo tumore maligno della guaina del nervo periferico può essere rimosso chirurgicamente, ma tumori di grandi dimensioni o multipli possono richiedere una combinazione di chirurgia, chemioterapia e radiazioni nel tentativo di ridurli e ridurre le possibilità che il cancro si diffonda ad altre parti del corpo. La maggior parte delle persone che sviluppano i tumori della guaina del nervo hanno una malattia genetica chiamata neurofibromatosi. Il disturbo predispone un individuo a problemi nervosi, tra cui cicatrici e tumori, anche se la condizione è generalmente benigna. Solo un piccolo numero di pazienti sviluppa mai tumori maligni. Se è presente un tumore maligno della guaina del nervo periferico, ma la neurofibromatosi no, la causa sottostante di solito non è mai determinata. I tumori della guaina nervosa possono colpire una persona di qualsiasi età, anche se sono più comunemente diagnosticati nei maschi adulti. Un nuovo, piccolo tumore maligno della guaina del nervo periferico può non causare alcun sintomo evidente. Man mano che la massa cresce, può iniziare a causare occasionali dolori acuti, sensazioni di formicoglio e dolori muscolari nella regione. Potrebbe essere possibile sentire o vedere un tumore se si sviluppa vicino alla pelle. I sintomi di stanchezza e debolezza muscolare cronica possono essere indicativi di un tumore in stadio avanzato che sta iniziando a metastatizzare. Un medico può diagnosticare un tumore della guaina nervosa chiedendo informazioni sui sintomi, eseguendo test genetici per la neurofibromatosi e effettuando scansioni di immagini della massa. Di solito è necessaria anche una biopsia tissutale per vedere se la crescita è cancerogene o benigna. I medici determinano il miglior ciclo di trattamento in base alle dimensioni, allo stadio e alla posizione del tumore maligno della guaina del nervo periferico. Piccole screscenze alle estremità e siti facilmente accessibili nel torso e nel collo possono essere spesso asportati da un chirurgo specializzato in questo tipo di chirurgia. Le precauzioni estreme sono prese durante l'intervento chirurgico per evitare di danneggiare il delicato tessuto nervoso sottostante. La chirurgia ha un alto tasso di successo, ma il danno accidentale può portare ad una temporanea perdita di sensibilità o paralisi permanente in una parte del corpo. I trattamenti radioterapici e la chemioterapia possono essere utili nella lotta contro i tumori della guaina del nervo di stadio medio-tardo. La prognosi è generalmente buona quando i pazienti ricevono un trattamento precoce e aggressivo.